Ed ecco la mia torta all'acqua. Adesso vado a mettergli lo zucchero a velo. E poi qualche minuto e la andremo ad assaggiare. Si è un po' aperta ma nel complesso è venuta buona. Poi per l'amor del cielo io non sono un pasticciere. Lo faccio perché mi piace provare. Mettiamo ancora un pochino. E' a forma di vesulo. Quindi la mia torta ormai viene a forma di vesulo. Vi ricordo senza uova, senza burro e senza latte. Quindi solo l'acqua. 250 ml. Solo con olio di semi girasole usato. 40 ml. L'acqua ovviamente l'ho fatta intiepidire dopo che l'ho messa sul fuoco. Adesso proviamo come è venuta. Davo io.